Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Arcade Parla, sono qui per spiegarvi come potenziare il buonissimo Klaus su Mawarther Toten. Per cui abbiamo il robot base e possiamo potenziarlo diverse volte per aumentargli la potenza e la durata, anche se ho notato almeno teoricamente che una volta potenziato anche il tempo di ricarica leggermente aumenta. Potrebbe non essere completamente vero, ma è una cosa comunque da considerare. Per cui costruiamo Klaus, vi lascio nel caso il tutorial e tutta quanta la playlist per Mawarther Toten, e dobbiamo anche ottenere quella che è la torcia UV che serve per la CRPRS gratuita, è una cosa comunque molto semplice, facciamo avvicinare Klaus a questo armadietto, lo spaccherà e raccogliamo questa torcia. Dopodiché dobbiamo fargli fare una certa quantità di uccisioni, richiamoci comunque alla fabbrica di abbigliamento e possiamo attaccare all'antenna quello che sarebbe appunto la stazione di potenziamento che è uguale alla stazione dell'arsenale. Questa stazione ha una specie di computerino di colore rosso, dovete far fare kill a Klaus finché non diventa verde. A quel punto potete riattivare Klaus perché molto probabilmente si sarà spento e farlo entrare in questa macchina di potenziamento. Partirebbe una specie di lockdown di un minuto in cui dovremmo difenderlo, comunque qualcosa di molto molto tranquillo, e completato il nostro buonissimo Klaus avrà un'arba potenziata. Già questo è un ottimo inizio ma possiamo spingerci ben ben oltre. Dovremmo fare di cercare 6 scatole di colore nero attaccate a certe pareti in alcune stanze e guardare di fianco con la nostra torcia UV e se c'è il simbolo di Klaus dovremmo fargli distruggere appunto queste specie di scatole, aprirle e dentro ci sarà un floppy disk. Dovremmo raccoglierne due per l'upgrade massimo e tutte quante appunto queste scatole sono sempre le stesse in una partita ma i due spot per i floppy disk sono completamente casuali. Per cui uno spot è qui alla sala detesa di fianco alla stamina e nel mio caso appunto c'è il simbolo di Klaus quindi chiamatelo lì con tutto quanto il computerino, il vostro telecomando che avete nel tasto tattico, molto vicino alla parete ma non addosso al muro altrimenti non arriverà e appunto spaccherà e aprirà questo contenitore e dentro ci sarà un floppy disk. Il prossimo spot è alla strada Berlino Ovest a sinistra del Pack-a-Punch sotto la stanza del Wunderfitz, appunto controllate se c'è il simbolo di Klaus, se c'è bene fatelo spaccare, se non c'è passate alla prossima location. Richiamaci adesso alla first room all'appartamenti al quinto piano e vicino alla Thomstone attaccata alla parete c'è appunto il solito contenitore, controllate il simbolo altrimenti andate avanti. Passiamo adesso alla stazione fantasma e nella direzione esterna non la parte iniziale bensì quella in fondo a sinistra qui c'è un altro contenitore. Un altro è subito fuori dal rifugio proprio dove si costruisce Klaus per la prima volta attaccata a una parete vicino alle porte di entrata c'è un altro contenitore. Infine una di quelle un pochino più nascoste nella suite esplosa dalla parte opposta del Wunderfitz c'è l'ultimo spot. Controllati tutti quanti avrete trovato i vostri due floppy disk, possiamo quindi recarci nuovamente alla stazione di potenziamento per upgradare non soltanto di potenza ma anche di skin il nostro Klaus. Per cui ancora una volta fatelo avvicinare toccando questo macchinario e possiamo inserire il primo floppy disk che farà un upgrade, nessuna difesa, semplicemente una piccola animazione di 5-10 secondi e abbiamo la nostra prima versione potenziata di Klaus che è qualcosa di veramente strana da vedere. La versione finale invece è qualcosa di fantastico perché dovrebbe essere Ronald Reagan, quello che vediamo su Epidemia lo zombie panchettaro che droppa sempre una Reagan, la skin è praticamente identica. A questo punto Klaus avrà l'arma potenziata al massimo, praticamente un XM4 potenziato a livello 3 con anche una specie di mod munizioni che sembra praticamente cavo inerte anche se un pochino meno potente non al tir massimo come il nostro e appunto durerà comunque un paio di minuti. Ripeto che mi è sembrato di notare un tempo di ricarica leggermente più lungo ma potrei comunque sbagliarmi. Sono gli upgrade molto tranquilli che si fanno molto in fretta quindi consiglierei di farli sempre anche perché già costruire Klaus è davvero rapido, fare questi upgrade perderete magari altri 5-10 minuti. Quindi spero che questo tutorial vi sia piaciuto, ancora una volta in descrizione trovate tutta quanta la playlist per gli altri tutorial. Ci vediamo quindi ai prossimi video. Un abbraccio. Alla